hola como estas? io tambien muy bi... oddio che cazzo stai dicendo? bentornati a questa nuova puntata di rock of ages versus io contro christian che boh che cazzo è? è il vive? sembra di van gogh no praticamente è una storia di folklore di una strega che rapisce i bambini e poi li mangia c'è anche l'avatar da sbloccare nella storia è figo allora adesso invece userò una tattica totalmente diversa tu sei team 2 ok io userò una tattica totalmente diversa ok oh wow abbiamo il fire boulder sì grazie e ovviamente le miniere e stavolta avrò io avrò la forza militare della mia parte che avrò catapulte e tombini e ovviamente la miniera tu sei a posto? sì che cosa hai scelto? è il sesso vedi che non ci sono le miniere sì che ci sono te le indica a me non le fa vedere allora tu devi scegliere la miniera e poi una freccia te le indica dove sono e non me le fa vedere christian oh adesso si mettiamo una qua più veloce e umano poi un'altra qui e ce n'è un'altra qui in fondo ok ah e qui in fondo mi sembra che sì c'è il castello ok questa è una mappa è una mappa abbastanza difficile sai dici? sì 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 lo è va bene oh c'è una casa che se ne va in giro così non ho ancora capito dove cazzo sono qua mettiamo una qui e una qua e poi ovviamente questi perché sono bellissimi ok e poi qua e poi qua e poi qua e questo per difesa e poi questi sono divertenti mettiamo un bel po' qua mettiamo così cazzo ho sprecato tutto tutti i miei soldi a fortificare il fondo non avrei dovuto dai finisci finisci stupida stupida palla finisci dai no ok io vado auguri ma cos'è una palla magnetica c'è magnetica magma una palla di magma sì l'abbiamo l'abbiamo sbloccata abbiamo sbloccata la palla di fuoco e allora mi sembra che sia un po' fragile però quando fa danno fa danno fa danno non è giusto la volevo anche io dovevi sceglierla ma non l'ho vista ce l'avevi la possibilità di sceglierla non l'ho vista eeeh oh no oh no troppe mucche cosa sono con tutte quelle mucche danne azione aaaah stupide mucche aaaah aaaah ok 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 bard torno ma me ne vado tutta la vita 234 di dan, ah bastardo mi hai appena distrutto un paio cosa ne hai distrutto mi hai distrutto per caso delle miniere No No infatti ci sono ancora tutte Le mie preziose miniere Le mie miniere Le mie miniere Un po' di roba qua Così ti rallento fin da subito Questo qui in mezzo Pronto per essere distrutto Poi qua che c'è una bella curva Che devi rallentare Mettiamo Questo qua così E questi qua Sì Sì Sono così malvagio Non ho più soldi Ste mucche Non ho più soldi Non hai più soldi Rianimami Ma mi si spezza il cuore Mi si spezza il cuore Ti prego no Deve essere doloroso Andiamo a fortificare un pochino l'entrata Carica Carica Qui Non hai distrutto molto qua Arrivo Ok io ci sono Stupida casa del castellerranti di Aul Ah ah i muri non mi fanno un cazzo Mi coprono soltanto la visuale Soltanto Ho saltato tutte le tue mucche Sono triste Le saltate tutte Maledetti uomini rocce Mi piacciono Oh no I miei uomini rocce No i miei uomini rocce Guadagni un sacco di soldi a distruggere le mie cose lo sai Lo so Ed è anche per questo che le mucche sono sgrave Perché se anche le dici Oh no No Finisci giù Si Distruggi con o no Le mucche se riesci a distruggerle non ti danno tanti soldi Agli avversari intendo Quindi tanta roba Salta Ok ok Con calma Con calma Con calma E ora con forza Ah fa male Eh 210 Però anche te Se riesci a prendere tanta rincorsa Mi hai quasi ammazzato È come stuzzicare le arru Che cosa? Non lo so Come stuzzicare le arru Le arru Le arru Sì Io ho bisogno di queste Cresci 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 Succhiare Esplodere Ma cosa? Sì Mi piace Uomo azzurro Sbrigati a costruire Vieni a casa mia E ti faccio Assaggiare la Sì Vai La pasta di mia sorella E' ora di distruggere Non è ancora il momento Per me Dove cercare Di fortificare Velocemente Maledetti uomini Cassa Oh no Quello era Quello era Un urlo Di puro terrore Metti a caso Metti cose a caso Cos'è questa roba Arriba Maledizione Cazzo Mi sono giocato A tutta la velocità Sì Zio Parco Sì Sì Finisce a terra Sì Me la pagherai Sì Sì Sono troppo lento Sì Gangbang Dimitro Ma dai Cazzo Non è giusto Catapulte Catapulte Cioè dovevi fare suscitare Non c'è più acqua Catapulte for the win ragazzi No Stai varando Ma che cazzo Stai dicendo Che cazzo sto volando Maledizione no Gioco di merda Dove sei Dove sei Sei lì Vai Ultimo colpo che posso fare Ok vai Cazzo Devo bloccarti Au Tranquillo Sono stato bloccato da me stesso Non me ne frega un cazzo Dalla mia stupidità Chiiiha Cioè da notare che non posso costruire Non ha senso Cowboy Perché hai un limite per ogni oggetto Oh porca puttana E' scritto sopra C'è un numerino sopra Weee Ok Nope Bastardo Questa parte qui potevi riempirla di mucche Per rallentarmi un sacco Più del dovuto almeno Anche quella vera Vai, 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 è dentro il buco! Ah! Bucca! Ah! Muro! Ah! Ok, oh, qua non posso. Ok, piano. Oh, no! Oh, ouch! Scendi! No! Ma io non voglio scendere! Ah! Ah! No, 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 no! Ma non è possibile! Ah, gas, rise and heart. Vaffanculo, qual è la mia palla? È giunta l'ora! Gio porco! Non è giusto! Non è giusto! E dai, vuoi la rivincita? In futuro sì! Perché te la do volentieri la rivincita! E vada allora! Ok! Vince la rivincita! Chi vince questo vince tutto! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie per la visione!